One, two, three! Perfetto! E questi? Sampie! Sono carubini cronati, quasi uguali a quelli veri, un affare. Certe cose non si possono imitare. Come i grandi classici lavazza, il mito della mocha in un espresso. Che inevitabilissimo! Lavazza a modo mio, così buono. Ce n'è uno solo. Ma voi siete bionda naturale? Yes! Sì.